Per il Teramo è giunto il momento di centrare la prima vittoria, un inizio di torneo che è stato il peggiore dell'era Campitelli, il quale, per porvi rimedio, mai aveva dovuto prendere drastiche decisioni così repentine come l'esonero simultaneo di DS allenatore. Ora, dopo i segnali positivi giunti nella prima partita del neotecnico Nofri a Sant'Arcangelo, l'attesa è per il primo successo, ma guai a farsi fuorviare dall'avversario, il neopromosso Fano. All'apparenza una squadra alla portata, ma quando una compagine come il Teramo perde l'abitudine a vincere, ritrovare i tre punti è sempre faticoso e tutto diventa più difficile. Non mancano contrattempi come il nuovo stop occorso a Carraro, Peterman ha fatto i conti con la febbre per quasi tutta la settimana, anche se Nofri ha potuto riavere a disposizione Di Paolo Antonio, che è in ballottaggio con Forte per una maglia da quarto di sinistra e potrebbe spuntarla. Il tecnico Umbro in mediana confermerà poi Petrella, Bulevardi e Ilari. In difesa torna Dorazio dal primo minuto, in avanti le certezze si chiamano Jefferson e Marco Sansovini. Il Fano ha inanellato tre sconfitte come il Diavolo, ma di punti ne ha due in più per via della vittoria sul Padova. In panchina c'è il tecnico Giovanni Cusatis, giocatore del Teramo nella stagione 88-89 e più volte vice di Beppe Sannino. Due gli ex in campo, il difensore Manuel Ferrani e il fantasista Davide Borrelli. I due sono stati compagni di squadra anche nel Teramo di Cappellacci, che vinse la Serie D nel 2012. Borrelli ha giocato a Teramo dal 2010 al 2012, ma non fu confermato dopo la Prodo in Lega Pro. Arrivato nel settembre del 2011, Manuel Ferrani è stato un pilastro della difesa bianco-rossa. In coppia con Speranza ha rappresentato un muro difficilmente valicabile fino al gennaio 2014, quando ha accettato le avance dell'Alessandria. Della squadra che ha vinto i play-off lo scorso anno sono rimasti alcuni pilastri, come lo stesso Borrelli, il centrale Torta e l'attaccante Gucci. Tra i rinforzi il portiere Menegatti, i centrocampisti Carotti e Cazzola e gli attaccanti Cocuzza e l'ex Catanzaro Masini. C'è anche l'attaccante Scuola Pescara Ingretolli, che sta recuperando da un lungo infortunio. Sicuri assenti, Schiavini e Gabbianelli, entrambi per problemi muscolari.